Buongiorno a tutti cari amici, Tubo Spettatore qui è Bob che vi parla e spera di aver acceso il microfono, sì l'ha fatto, quindi possiamo continuare con il nostro gameplay su Call of Duty World at War. Locatore singolo? Vai prendi, sì. Terribile. No. No. Sì. Sì. Un istante. Era andato. Robbrook, il tizio più brutto del mondo. Il fuoco di contraerea dall'aeroporto di Veneto è la nostra priorità. Conquistiamo l'aeroporto! Via! Si va in scena! Frascamen, alla riscossa! Settembre del 44. Ero sicuro che Sullivan ce l'avrebbe fatta. Abbiamo abbassato la guardia, Polonski. Non possiamo permettercelo. Il loro tragitto porta tutti verso le difese giapponesi. Sì. Dobbiamo aggirarli. Sì. Non bagneremo, non ci faremo ammazzare. Superata questa paludè, ci uniamo alla quinta. Sì. L'ho ucciso, l'ho ucciso! Capitano! Dove essere stato abbattuto stamattina? La fusoliere è ancora fumante, vedi se ci sono superstiti. È bloccato da qualcosa! Cosa? Merda, granate! Bomba! Dove sono? Dove sono? Crepa, crepa, bastardo! Dai. Dai. Dai, dobbiamo ucciderli. Sì, ce l'ho fatta! Ho schiacciato via abbastanza in tempo! Dov'è? Dove sono? Mi sa che ho ucciso anche il nostro fuciliere. No, lui sopravvive sempre. Voglio la risacca con baionetta. Ok. Così posso difendermi dalle baionette. Dove sono andati i miei compagni? Non abbandonatemi, bastardi! Non posso credere che abbia nominato i nostri morti. Un'altra cazza di imbosca... Robruc! Difendimi, sergente! Non sono tutto intorno! Non allontanatemi! No, no, tranquillo, non mi allontano. Dove sono? Mi sento che dicono banzai! Ma non li vedo. Sergente! Vai, Polonsky. Dov'è il sergente? Polonsky? Dov'è il sergente? Dov'è il sergente? Polonsky! Polonsky non vedo più! Eccolo! Robruc! Robruc! Attendo i tuoi ordini, Robruc! Tutti in azione! Sì, grazie! Sì, capitano! Tutti in azione! Non vedete quella posizione! Sì, capitano! Non vedete quella posizione! No, non morire! Compagno! Non vedete questa parte! Giù, giù, granata in arrivo! Garand M1! Chi è qui? Sto tizio qui! Sì! Carica! Carica! Pa 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 pa! Oh! Stri 자꾸 fuori! Civitlo! Tom! Tom! Ok ok ultimo colpo Cristo Grazie sergente Qui dobbiamo davvero ringraziare il sergente Ha fatto tipo un triplo carpiato Assieme a un giapponese per salvarci Dove? Oh Cristo Ok Dove? Dov'è? 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 Crepa Io mi raccolgo sto tipo 100 Vado via col tipo 100 Dai Granata Boom Quanti nocchillati Ho fatto una strage Cristo Guarda quanti Sono tutti morti Avete visto? Sono un mito Oddio Bucano i muri Bucano i muri Viene giù tutto Ah no C'hanno la mitragliatrice Cioè l'avevo vista io eh Non smica cretino L'ho capito Dov'è il lanciafiamme? Checkpoint raggiunto Ok Ma quanti sono? Sono infiniti? Sono infiniti? Sono infiniti i tizi dentro lei Bucano i muri La mitragliatrice La cavità descia Sì? Ok Usate quel lanciafiamme contro il bunker E' il dottore Fate venire qui il dottore Medic 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 Non muore questo Ok Chi è questo? Robbrook Hai visto che ho conquistato? Sono vicini Brucia Hai visto Robbrook Come sono efficiente Capitano Sergente Dai Adesso andiamo Oddio E' un po' aperto qua Sei sicuro? Di volermi condurre in questo campo aperto Crepa Crepa È un nemico No No Sbagliato Sull'albero Merda Sull'albero Dove? Dove sono? Ma guarda come sono efficienti i miei compagni Non mi piace tanto il lanciafiamme È brutto Ok È morto Ehm Ci stavano aspettando Eh vabbè È la guerra amico mio Vero o no Robbrook Vero o no Vero o no Sì o no Sì o no Sì o no Eh Sì o no 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 O cristo È esplosa Oh Stanno cercando di portare il loro carico Stanno cercando di portare il loro carico Ok Oh Cristo Quella mitragliatrice sta sparando da sola No l'ha eliminata tranquilli Eh dove? Dove sei? Vai sergente! Ti seguo! Ti seguo sergente Dove sono? Dove sono? Difendimi sergente! Ho paura! Ho paura! Eh hanno lanciato una granata Sì Si stanno muovendo Dove sono? Dai E che? Dai Sì ce l'ho fatta finalmente! Spero sia morto Sì è morto Adesso voglio la risaca con baionetta No no no! Non la granata nei piedi Voglio la risaca con baionetta Ok Stampp 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 Ok Ok Sì 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 Boom Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Ah questa è quella dei zombie Della modalità zombie Questa è la zona della modalità zombie Se ci fate caso Qua è dove ci Lì c'è la smart box Qua c'è le scale Si sale su E qui c'è un'apertura E si può andare lì Sì Qui siamo nell'area Di nazi zombie Lì In Akderun Toten Via Dudum Carro Schirman Andiamo via Col bar Sì cosa Cosa faccio io in confronto A 40 carri armati Vai Polonsky Difendimi Sì Soffre Polonsky Un C-130 È andato giù Questi sono nostri o nemici? Boh Oh Cristo Quello secondo me è un nemico Sicuro Questo è nostro Questo cos'è? Tipo 100 No ce l'abbiamo Tan tan Tarata tan Tan Tarata tan Tan Ok 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 Prendiamo un puncher fresh Pan No un bazooka M9A1 Non è un puncher fresh Si L'ho eliminato Oh Christ Jesus Non vedo più una ceppa Ehm Distrugge con i bazooka Si lo sto facendo Cosa sto facendo secondo te? Cioè sto gioco è veramente Andiamo 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 via di bazooka Si Ahah Ancora uno L'hanno colpito Ok Si 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 Ah Sono ferito Sono vivo Sono vivo Serve un laccio emostatico Ok Ok E' un po' come giocare A zombie Banzai dove sono? A terra Trovate riparo Mi serve aiuto qui Si Ok Quando Quando non parlo è perché sono Tanto concentrato No tu sei mio amico Ok bravo Dove sono? Capisco più una ceppa Ehm Ok Si Si Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tieni giù la testa Sì guarda come esploso bene Poi vi metterò un rallenty Lo merita tutto un rallenty Sì ci siamo quasi lo so Sì sì eh eh TADADAD ta 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 pa TA 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 Dove sono i miei compagni? Eccoli TA 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 Scusate Chi spara? Non vedo una ceppa Ok Devo andare a sparare sulla 25 mm Ok, sparo Spara Il carro armato Crepa Bastardo La torre Dov'è, dov'è, dov'è Il carro armato, c'è un carro armato Oh raga Sto, sto, li sto devastando E' un massacro, un massacro E' un massacro Ci sono gli aerei Serve la contraerea Dov'è? E' certo che è in mano nostra Noi siamo in superiorità numerica Siamo più intelligenti Siamo più evoluti Uh, adesso inizia la storia della Russia Ma tutto nel prossimo video Non voglio anticiparvi niente Ok